Salve amici del Centrometro Italiano, anticiclone e rinforzo con tempo per lo più stabile nei prossimi giorni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per venerdì 1 settembre. Nubi sparsi al mattino sulle regioni settentrionali ma con tempo asciutto e salvo l'isolato e piogge solo sulle coste dell'Adriatico e sole prevalente al centro-sud. Al pomeriggio isolati acquazzoni possibili sulle Alpi orientali, Puglia, Sicilia orientale ed ampi spazi di sereno altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in transito al centro-nord. Temperature minime e massime stabili o in generale aumento su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.